Il giorno dopo la trasferta di Parma, i viola sono tornati subito al lavoro per preparare il prossimo impegno esterno, stavolta contro il Catania di Montella e per svolgere in palestra una leggera seduta defaticante. Dall'altra parte del centro sportivo, su uno dei due campini, le riserve, che non hanno preso parte ieri al recupero di campionato, hanno affrontato in una partitella in famiglia della durata di 50 minuti, la primavera di Mister Semplici e del vice Consumi a bordo campo. Presente anche oggi il presidente Mario Cognini, tra i pali invece in supporto ai giovani gigliati, nel primo minitempo Pazzagli, mentre nel secondo è sceso a dare una mano sempre ai giovani gigliati, Neto. La partitella si è conclusa sul risultato di 3-1 in favore della prima squadra, in rete gli Aic, Cerci e Cargià per i giovani. Il gol è targato Matos, domani pomeriggio, Fiorentina ancora a lavoro, sabato invece in programma la conferenza stampa del tecnico Romagnolo e la partenza per Catania. E' un po' di Bambini. E' un po' di Bambini. Alta di, alta di Daniel, alta di Carmi Vedi a terra, ca, 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 ca. Bene Va bene, Dianhi, va bene Vedi, aveva bene, Adani Vedi La linea, la linea, la linea, la linea, la linea, la linea in my heart We're running wilder, we'll be going in the dark We're running wilder, we're running wilder, we're running wilder, we're going in the dark We're running wilder, we're running wilder, we're running wilder, we're running wilder, we're going in the dark We're running wilder, we're running wilder, we're running wilder, we're running wild Seconds, you two are beiénd 2005 No, go, go Grazie a tutti Grazie a tutti